Buongiorno a tutti, ti auguro una buona lettura e ciao ragazzi! Magnifico, ciao Abdu! Ciao a tutti, sono qua con Abdu Diallo, mio compagno nazionale che ha scritto questo bellissimo libro che è molto bello, ho finito di leggerlo, però è solamente in francese, non c'è ancora la versione italiana, non so, adesso io vi chiedo, no, se magari faranno la versione in italiano, vediamo un po' cosa mi risponderà, ne approfitto comunque per fargli presentare un po' il libro, e niente, così lo scopriete anche voi. Il libro è scritto in 4 mani, l'ho scritto in 3 mesi e qualche, durante il primo confinamento, accessibile, perché sappiamo che il pubblico che questo viso non è un pubblico di grand lecto, e noi non siamo forsemmo dei grandi scrivori, non c'è il nostro lavoro di base, quindi abbiamo voluto fare un libro molto autentico, abbiamo guardato il nostro langaggio, quindi ci sono anche dei mots che vengono dell'argo francese. E quindi ci sono i anni di formazione alla Smonaco, con Lounis, Anthony e Dylan. E quindi ci sono le avventure dei giovani adolescenti che sono a la prossima di loro sogni e che tentano di accettare al mondo troppo. Io credo che c'è davvero molto bene scritto, perché in più, anche io ero in un centro di formazione e ho trovato molto interessante di me ricordare di alcuni momenti, per esempio quando ti faccio la preparazione, quando ti faccio la preparazione, quando ti faccio la montazione con gli altri che sono più agili di te, e là c'è sento la differenza. E, sinceramente, io ti consiglio di scrivere, perché mi ha fatto come una terapia. Ok. Ci siamo tutti ricordati di perché gioiamo al foot. Perché quando sei pro, hai la testa nel guidone, e hai un po' l'essenza del piacere del football, del piacere di essere con i miei amici, tutto ciò. E il fatto di avere qualcosa che ci ha animato a 4, e siamo conosciuti per il foot, ci ha avivato questa flamma. Chiaramente, per rispondere alla mia domanda sul fatto se avrebbero tradotto il libro in italiano oppure meno, chiaramente dipende dalla domanda. Quindi, se siete in tanti ad essere interessati e inclusiti a questo libro, fate richiesta e probabilmente i ragazzi provvederanno. Perché comunque questo libro è stato scritto di loro pugno, da questi quattro ragazzi. parla dei ragazzi del centro di formazione, quindi il convitto dell'ES Monaco. Sono cresciuti in questo convitto e parla di com'è la vita lì dentro, fino ad arrivare poi alla squadra professionistica, quindi alla prima squadra. Ne approfitto per farmi filmare il libro, visto che oggi è pure fatto un bellissimo gol e ci porta in finale della Coppa d'Africa. Quindi ne approfitto, vi posso filmare il libro e me lo tengo come ricordo. Tu vuoi che io signo per Alfred? Ah, certo!